È tornato a trovarci nei nostri studi il professor Salvatore Bordonaro, docente del liceo Giovio di Como, per un aggiornamento sulla situazione scolastica nelle scuole lariane all'indomani del passaggio in zona arancione di regione Lombardia. Professor Bordonaro, qual è la situazione al momento? La situazione è quella che avete appreso sostanzialmente dai media, dai giornali e dalle televisioni. Il ritorno in zona arancione contempla anche il ritorno a scuola dei ragazzi. In una misura che è al minimo, o perlomeno è nei primi giorni del 50%, salvo poi verificate le condizioni di rispetto dei protocolli per la sicurezza Covid-19 nelle scuole, si possa arrivare addirittura al 75%. Stiamo parlando di scuole secondarie superiori, laddove invece è risaputo che sia la scuola primaria sia la secondaria di primo grado praticamente non hanno mai smesso la frequenza in presenza, se non in quel brevissimo periodo della zona rossa per le classi seconde e terze. Parliamo di scuola secondaria e superiore che di fatto sta tenendo i ragazzi in dad già da parecchi mesi, dall'inizio dell'autunno scorso fondamentalmente. Il ritorno in classe per le scuole superiori avverrà gradualmente nel corso della settimana. Qualche istituto ha ripreso l'attività didattica in presenza da ieri, altri si stanno organizzando. Sì, anche da questo punto di vista c'è una situazione un po' frastagliata, nel senso che chi aveva già pronti dei piani li sta già mettendo in pratica, altri si stanno organizzando in queste ore. C'è da dire che questa operazione è resa possibile anche da un'intensificazione dei servizi di trasporto nelle fasce orarie degli studenti e bisogna dare atto anche all'Agenzia del trasporto pubblico locale, praticamente deve aver fatto uno sforzo enorme per cercare di in qualche modo stimolare, veicolare le aziende di trasporto pubblico locale, impegnarsi da questo punto di vista. Vedremo nei prossimi giorni gli effetti di questa rimodulazione in positivo dei trasporti urbani ed extraurbani a servizio della popolazione studentesca. Per quanto riguarda la logistica del trasporto pubblico locale per riportare in classe gli studenti, pare che nelle ultime settimane qualcosa sia cambiato. Sembrerebbe di sì, nel senso che ci sono stati degli investimenti, ci sono stati degli sforzi per riorganizzare il sistema dei trasporti, però al di là dei numeri che adesso secondo me non vale neanche la pena ricordare, vedremo come tutta questa macchina dei trasporti si muoverà nei prossimi giorni e poi daremo una valutazione. Quello che volevo sottolineare è che questo ritorno a scuola non è il ritorno alla normalità, questa normalità tanto desiderata credo che si farà tanto attendere ancora perché comunque vale la pena ricordare, lo vorrei sottolineare con forza, restiamo in una situazione emergenziale. Io non do per scontato sostanzialmente che ci siano le condizioni per un ritorno graduale alla normalità, tanto più che sempre dai media apprendiamo dell'arrivo della variante inglese, della variante brasiliana, al di là che se ne conoscono ancora le potenzialità infettive, la velocità di trasmissione, piuttosto che la carica patologica di cui sono portatrici, siamo comunque davanti alla conferma che la situazione permane ancora molto, molto critica. Parliamo di vaccino anti-Covid. Qualcuno avanza l'ipotesi di anticipare la somministrazione ad alunni e insegnanti. Vi sono novità a riguardo? Allora, diciamo che al momento attuale, da quello che mi risulta, da quello che mi costa, non vorrei però, come dire, andare su un terreno che non mi è congeniale. Non abbiamo ancora sostanzialmente una formulazione vaccinale per i giovani. Il vaccino è sostanzialmente, come dire, da inoculare ai soggetti che, come dire, sono ovviamente nella maggiore età e nella maturità. E credo che sia corretta la scelta di cominciare con gli operatori sanitari, cominciare con gli ultraottanteni, quindi con i soggetti più esposti, con i soggetti più fragili. Ecco, mi piacerebbe che gli insegnanti fossero, come dire, in qualche modo inseriti tra queste categorie che prioritariamente devono ricevere praticamente le dosi vaccinali. Lo dico perché fondamentalmente è forte, come dire, la preoccupazione che siano proprio i giovani a portare, come dire, una carica virale piuttosto forte e quindi a trasmetterla poi nell'ambiente scolastico. Ambiente scolastico che continua a mantenere, come dire, i protocolli per la sicurezza su cui si è lavorato tantissimo prima della ripartenza dell'anno scolastico nel mese di settembre. Quindi i ragazzi che tornano a scuola troveranno ancora, come dire, il distanziamento tra i banchi, dovranno ancora tenere le mascherine, si auspica che abbiano, come dire, in cura molto severa il proprio abbigliamento, la propria igiene personale, la sanificazione delle mani, che non portino a scuola, come dire, degli oggetti, degli orpelli inutili e che siano, come dire, ligi nel non scambiarsi praticamente gli oggetti di uso più comune nell'ambito scolastico e perché no anche bottigliette d'acqua piuttosto che cibo e quant'altro. Quindi io auspico che il ritorno a scuola degli studenti sia, come dire, nella consapevolezza che il periodo emergenziale non è finito per nulla. Io piuttosto questo ritorno a scuola lo vedrei più come una sorta di, come dire, terapia di urgenza, soprattutto per fonteggiare quelle situazioni di difficoltà, di criticità sul piano psicologico a cui stanno andando sempre più massicciamente incontro le nuove generazioni. Ripeto, sarà un'esperienza positiva, avrà una valenza positiva tutto questo, se però non ci dimentichiamo che siamo ancora dentro un periodo emergenziale piuttosto critico. Ringraziamo il professor Salvatore Bordonaro, docente di Liceo Giovio di Como. Ci auguriamo di averlo nuovamente ospite nei nostri studi per tenerci aggiornati sulla situazione scolastica lariana. Sempre disponibile, grazie e buona serata a tutti.